Si vede? Bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Fabij Come potete vedere sono nella mia storica location torinese Che questa è la mia camera nella quale ho iniziato a fare i video Nel caso non lo sapeste dovreste saperlo dal mashup del video dell'altro ieri Scusatemi se questo video è un po' fatto così Ma sto facendo il video col telefono Ecco, appunto Sto facendo il video col telefono perché Sono tornato a Torino a casa mia Per le vacanze di Natale Perché voglio stare un po' con i miei genitori Sto usando il telefono per fare i video Non perché non mi merito 5 milioni di iscritti Ma perché a casa mia, qua dove faccio i video all'inizio Non ho più il setup per fare i video Quindi scusatemi se fa un po' schifo L'unica cosa che è cambiata di questa splendida cameretta nel tempo È che adesso c'è quell'elemento lì Che mi... no, non è vero No, non ci credo Sam, dai, ma che schifo Ma veramente Ma che schifo Che schifo Ma piscia nel pannolino Perché hai fatto questa cosa? No, vi giuro raga Non lo faceva da secoli Non pisciava per terra Hai pisciato sempre nel pannolino Cosa fai? Regredisci? Eeeh, comunque Sì, bravo Ingroppati il cane Comunque Sono qui Perché volevo dirvi un paio di cose Oggi è un video normale Volevo farvi Volevo dirvi due o tre robe importanti Innanzitutto volevo ringraziarvi per il successo che ha avuto lo speciale Perché siamo arrivati a... Sto registrando questo video 24 ore dopo la pubblicazione dello speciale E siamo arrivati in 24 ore Quindi un giorno intero Ad un milione di views Incredibile Non ho mai Credo fatto un milione di views In un video in 24 ore Se non haters in Italia Che è commemorato Sul mio muro Intanto si sta commettendo un canicidio qua Però facciamo finta di niente Siamo arrivati a un milione di views Ed è un video Lo speciale è un video non musicale Perché haters in Italia te la riascolti Quindi ti riguardi il video facilmente Lo speciale non è un video musicale Quindi il milione di views Nello speciale vale di più di quello di haters in Italia in 24 ore Perché è un video di 15 minuti Incredibile che sia stato visto così tanto Vi ringrazio Davvero Non mi aspettavo assolutamente questo successo Per quanto mi aspettavo andasse bene Ma cavoli così tanto no Sono veramente contento Vi ringrazio davvero dal più profondo del cuore Ho pensato All'inizio pensavo di fare un video più commemorativo della serie Vi ringrazio per i 5 milioni iscritti Poi mi sono accorto che Se dovessi fare un video ringraziamento per i 5 milioni iscritti come sempre Dopo un minuto che ringrazio Voi vi siete già martellati gioielli Che alla metà basta giustamente Quindi ho detto Vabbè facciamo qualcosa di Quindi ho detto Vabbè facciamo qualcosa di divertente E abbiamo radunato appunto Tutti questi VIP Che ringrazio tra l'altro E abbiamo girato appunto il video E è stato Ci siamo fatti un mazzo tanto Se non l'avete ancora visto Andate a vedervi lo speciale 5 milioni Ieri non ho fatto video Perché volevo lasciare Volevo prendermi un giorno di pausa Perché per fare quello speciale vi assicuro Che ci abbiamo messo un mese Tra regia Registrazione Montaggio Una pena incredibile Quindi mi sono preso un giorno di pausa Perché veramente stavo morendo E niente Quindi sono venuto a Torino Adesso sono qua con la mia famiglia Trascorrerò le vacanze qui E tornerò poi a Milano Verso il 3 gennaio Più o meno Faccio questo video Per informarvi appunto Di un paio di cose La prima Stasera ci dovrebbe essere la live La live del lunedì Che non ci sarà Perché siccome sono a Torino Sono tornato a casa mia Non ho la connessione Per fare le live E quindi le live riprenderanno Quando tornerò a Milano Quindi le live sono interrotte Fino al 7 gennaio Se non sbaglio Il 7 gennaio è lunedì Dove riprenderò a fare live normali Fino al 7 gennaio Quindi non ci saranno live Serali Perdonatemi ragazzi Ma qua non ho la connessione No regà non ce la posso fare Non ho la connessione Che mi permette di Di fare live Però va bene Mi prendo un attimino di pausa Anche io Sono qua per dirvi due o tre robe Allora la prima Da gennaio Inizierò a registrare Il famosissimo Esperimento incredibile Esperimento incredibile Per chi non lo conoscesse Sarebbe la seconda Serie originale Favij La prima è Unboxing Favij Che è già iniziata Che sta andando molto bene Infatti vi ringrazio Inizierà Esperimento incredibile Che si tratta di Esperimenti Mamma mia Non l'avreste mai detto Eeeh No 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 Il fazzoletto no Dove l'hai preso? No Sam Il fazzoletto no E quindi da quando pubblicherò Esperimento incredibile La settimana sarà composta Da lunedì e giovedì Mille serie Con le live Martedì Unboxing Favij Mercoledì Gameplay normale Giovedì Esperimento incredibile Quindi preparatevi Per che ci sarà questo Qualcuno mi spiega Che cosa sta facendo Quell'affare lì Qualcuno mi spiega Che calze ho Perché? Ecco bravo Perché? 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 Inoltre ragazzi In questi giorni Usciranno video della Madonna Perché da domani Si riparte normalmente Per farvi un esempio Non so se vi ricordate Il candelabro umano Con Marco Ecco abbiamo registrato Una cosa Che secondo me Quello Il candelabro è Un tutorial in confronto Quindi non avete idea Di cosa sta per uscire Sul canale Vedrete Quindi ragazzi Cosa volevo dirvi Volevo dirvi Che stanno per uscire Contenuti Very power Quindi No vabbè Ma non è possibile Ma tutto adesso Ma mentre sto registrando Ma Ma veramente Ma tutto adesso Non potevi cagare stamattina Eh niente Niente La mia vita è così Vabbè Devo tagliare corto Perché qua Mi sta implodendo il cane Spero che Lo speciale vi sia piaciuto Vi ricordo Se non l'avete visto Trovate il link in descrizione Mi scuso appunto Se ieri non ho fatto video Per un giorno Perché volevo un po' riprendermi E niente Volevo augurarvi di persona Buone feste Passatele con i vostri genitori E guardate tutti insieme Il video speciale Che ci siamo fatti un mazzo così Per farlo Volevo veramente ringraziarvi Quindi di cuore Per il traguardo Di 5 milioni Ragazzi Sono veramente tanti 5 milioni Siamo veramente tantissimi Però come ho detto Nel video speciale Non è tanto Il traguardo in sé Dei 5 milioni Quanto il percorso Che abbiamo fatto Cioè il divertimento Che c'è stato insieme Per me Significa Aver conosciuto Tante persone Durante il mio percorso Persone che mi hanno arricchito A livello proprio personale A livello culturale A livello di idee Insomma Mi hanno formato Io cerco di prendere Un po' il meglio Delle persone Quando le conosco Da domani Ricominciamo i video Normali Spero che il video Vi sia piaciuto Mi spieghi Che cosa stai facendo No raga Io ve lo giuro Non lo capisco Ma cosa fa E' pazzo Stamattina E' un demonio Ma guarda Che non fa Non fa mai così Ma cosa stai facendo Esattamente Da un'ora e mezza No raga Ve lo giuro Non so cosa Stia succedendo Da stamattina Che O ha tipo sniffato Della cocaina Non lo so Però chiudo Perché devo fare cose Devo pulire cacchie E fare robe Spero che il video Vi sia piaciuto Scusatemi la La rozzezza Di queste riprese Perché lo so Veramente l'ho fatto Col telefono Sto video Però Non ho materiale Qua a Torin Dai miei genitori Tranquilli Da adesso Di iniziano i video Normali Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace Anche i vari social Che come i video Trattate nella descrizione Se non sono Chris Dispiedetevi E noi ci rivediamo Ad una prossima cagata Per terra Bella ragazzi Ciao